Se ne sente parlare sempre più spesso, equilibrio acido-base-espressione con la quale si indica in biologia l'insieme dei processi fisiologici che l'organismo mette in atto per mantenere al suo interno un livello di acidità compatibile con lo svolgimento delle principali funzioni metaboliche, il nostro corpo può contare su alcuni importanti strumenti di deacidificazione, i polmoni ed i reni. Non solo, c'è un terzo importante elemento. Poi naturalmente c'è anche il tessuto interstiziale, il tessuto tra le cellule che se vede che c'è un'iperacidità dice venite tutti voi acidi e depositatevi nel mio tessuto. Naturalmente questo è buono per il momento ma non negli anni perché questo fa sì che il tessuto diventa meno elastico e possiamo avere appunto l'arterioscleosi o artrite, nelle articolazioni, cioè rematismi, possiamo avere artrosi o anche lo stesso tumore può avere una delle cause, delle tante cause, questa iperacidità. Ma come ci si può accorgere di un non corretto equilibrio acido-base nel nostro corpo? Naturalmente uno si può sentire male anche senza essere acido, però può essere che non si sente così bene. È un po' più acido nel suo animo, è un po' più cattivello magari, si sente meno. Anche le forze vitali sono meno forti, si sente anche un po' più debole, magari i muscoli più deboli o la pelle più secca, i capelli più grassi, può avere un po' di mal di testa più spesso o anche tutte le malattie croniche sono spesso un segno di iperacidità. Uno stile di vita sano può contribuire a mantenere inalterato e dunque su valori corretti il nostro equilibrio acido-base e uno dei fattori principali si chiama adeguata alimentazione. Allora l'importante è l'equilibrio, perché io posso mangiare un po' di carne, tipo una piccola cotoletta, ma poi tanta verdura assieme. Poi anche la dieta dissociata ha un effetto basico, dove posso mangiare carne e verdura, ho carboidrati e verdura e ho sempre un'alimentazione basica.